L'inizio dell'anno per la sanità sarda ha comportato il completamento da parte della giunta regionale del passaggio sugli atti aziendali delle 13 aziende sanitarie dell'isola. Per quattro aziende l'esecutivo ha richiesto l'apporto di alcune modifiche, una di queste è l'ASL di Nuoro, che però precisa. Le osservazioni dell'assessorato sono un atto puramente tecnico che l'ASL sta risolvendo in queste ore insieme alla regione. Sono stati evidenziati dei passaggi non esplicitati in maniera corretta, non conformi magari con qualche delibera di giunta che doveva essere citata o menzionata e quindi siamo semplicemente rivedendo questi giorni con l'assessorato come sistemare il documento. Un aspetto importante però che è stato evidenziato anche nel vostro comunicato stampa di ieri è che tutte le tempistiche sono state rispettate. Sì, questo ci tenevo perché noi abbiamo fatto le comunicazioni nei momenti corretti, ci siamo visti con i sindaci il 14 di novembre, convocati inizio di novembre, quindi quel momento poteva essere espresso un parere. Non l'hanno espresso, non avevo preso tempo, poi il tempo è passato, io ho chiesto una nuova convocazione che non è avvenuta e quindi alla fine è stato approvato per silenzio assenso. Un atto aziendale, quello dell'ASL di Nuoro, concepito per essere più vicino alle reali esigenze dei cittadini, impiegando anche nuove tecnologie e con la massima attenzione ai pazienti cronici. La particolarità dell'atto aziendale, la caratteristica principale è il fatto che innanzitutto fa nascere la struttura aziendale, finalmente abbiamo l'ASL numero 3 nasce, quindi uffici amministrativi e quant'altro. E poi da una vocazione oncologica all'ospedale abbiamo creato un dipartimento oncologico, il CAS, Centro Accoglienza e Servizi per la presa in carico dei pazienti e poi sul territorio con la medicina di prossimità abbiamo fatto un dipartimento funzionale che si prenda cura dei cardiopatici, dei diabetici, della cronicità in generale, che fa paio poi con la telemedicina e teleassistenza che sono tutte sperimentazioni e attivazioni che stiamo facendo e stiamo portando avanti con forza.